allora buonasera a tutti benvenuti io per chi non mi conosce sono Claudio Forziati sono un bibliotecario lavoro all'Università degli Studi di Napoli Federico II al Dipartimento di Giurisprudenza e abbiamo pensato di organizzare questo incontro con GVMAB per per introdurre un progetto insomma che fino ad ora non avevamo ancora presentato se non in un'occasione di presentazione di buone pratiche una presentazione che è stata curata Giovanni Bergamin vi dico subito che sarà un incontro introduttivo quindi non faremo niente di particolarmente complesso o raffinato però diciamo questo incontro servirà a farvi prendere confidenza con questa piattaforma che si chiama Utibase Cloud quindi se qualcuno di voi ha già un po' di dimestichezza con Utibase e con Utibase Cloud probabilmente si annoierà un po' e quindi magari dopo in chat vi metto anche il link della presentazione di Giovanni Bergamini che sicuramente è una roba un po' più tecnica più raffinata insomma di quello che faremo oggi. Io inizio a condividervi lo schermo in chat trovate il link alla pagina di lavoro che ho creato su Wikidata ok la vedete? Sì si vede Claudio. Ok. Nella pagina ci sono in sintesi vari passaggi che faremo oggi. Innanzitutto credo che sia utile dire proprio due parole su Utibase. Utibase è il software che fa girare Wikidata che sta dietro Wikidata e consiste diciamo in una serie di estensioni che installano diciamo su una precedente installazione di MediaWiki per gestire sostanzialmente dei dati strutturati e per utilizzare questi dati in altri progetti, altri progetti Wikimedia o wiki indipendenti. Che cos'è Wikibase Cloud invece? Wikibase Cloud è una piattaforma messa a disposizione da Wikimedia Deutschland, una piattaforma cloud che ospita per il momento in maniera totalmente gratuita, istanze di Wikibase. Vi dico questo perché chiaramente Wikibase è un software quindi può essere anche diciamo installato indipendentemente dal fatto di avere un account su Wikibase Cloud e dal creare appunto dei wiki in cloud. Può essere installato localmente diciamo c'è alla pagina che vi ho mostrato eh prima e eh di cui trovate il link diciamo nella pagina di lavoro eh trovate tutta la documentazione per poterlo fare. Chiaramente eh Wikibase Cloud ha il vantaggio di essere una piattaforma già eh pronta a a diciamo a creare dei wiki eh con questa tecnologia eh in in maniera diciamo con con software aggiornato e con una manutenzione continua cosa che invece in un'installazione locale dovreste fare da soli. Su questa pagina che vi sto mostrando eh trovate ehm la gran parte diciamo del del della documentazione per iniziare eh e quindi mi baserò molto su quello che vedete su questa pagina ehm per per mostrarvi come come creare dei wiki da zero. ehm la cosa la cosa interessante in questo momento di wiki base cloud mh è che ehm da qualche settimana è diventata una open beta cioè eh non è più necessario come ehm come eh diciamo succedeva qualche tempo fa eh richiedere un invito diciamo dal allo staff che cura eh wiki base cloud ma si può andare liberamente sulla piattaforma vediamo se riesco a spostarmi tra i tab facilmente c'è quella che vede qua HTTPS the.slash.wiki.cloud e creare un richiedere un account lo si fa sostanzialmente ehm cliccando su sign up eh serve un indirizzo email e una password che dovrete confermare ovviamente vi arriverà la solita email eh da verificare eh cioè per per la verifica della dell'email eh e il gioco è fatto diciamo è molto 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 semplice. Vi invito a farlo perché ehm le le possibilità diciamo che che vi dà eh questo eh questa piattaforma sono sono molte. Innanzitutto vi dà la possibilità di ospitare appunto eh gratuitamente dei wiki creati da voi, dei wiki che sostanzialmente legate a dei progetti, dei progetti che ehm a differenza di quello che potete fare eh comunemente con Wikidata ehm sono progetti per i quali scegliete voi le regole ad esempio di rilevanza. Sappiamo che in tutti i progetti della Wikimedia Foundation esistono dei criteri di rilevanza che ti consentono o meno di creare eh delle eh delle pagine, degli elementi eh degli articoli nelle nell'enciclopedia. questi sono progetti che curate in maniera eh totalmente autonoma. Eh quello che vi mette a disposizione Wikibase Cloud eh ovviamente ho fatto già il login ehm lo potete vedere da questo dalla 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 pagina dashboard cioè vi mette a disposizione quattro sei wiki quindi da dal momento in cui avete un account qua potete creare sei progetti eh liberamente. ovviamente per ognuno eh di questi mh dovrete eh configurare eh alcune ehm alcune preferenze. Eh lo fate attraverso questa vedete questo questo tasto qui cioè ehm una volta creati potete anzi dovete per essere eh più precisi ehm specificare dei settings del vostro wiki. Vi vi faccio una premessa. una volta che avete creato un wiki eh non non cioè siete autonomi anche nel nella sua cancellazione cioè nel senso che se decidete che quel wiki è un wiki di test per cui lo stavate utilizzando solo per fare ehm come una specie di sandbox quindi solo per fare dei tentativi per fare eh insomma degli esperimenti potete tranquillamente eh eliminarlo. L'unica cosa è che non potrete riutilizzare se utilizzate ehm come vi faccio a vedere fra un attimo eh il un sottodominio del dominio wiki base punto cloud non potete utilizzare lo stesso eh nome di sottodominio. Questo è l'unico è l'unico vincolo. Ehm per creare un wiki quello che che vi vi viene eh quando quando cliccate su creare un wiki eh quello che vi viene mostrato è questo cioè quello che dovrete decidere sarà eh il nome del sito ehm se è un sottodominio libero oppure se volete utilizzare un vostro hosting ehm chi è il 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 primo diciamo utente che generalmente è anche l'amministratore ehm eh del wiki è anche un utente autoconvalidato e semplicemente eh accettare i termini d'uso della piattaforma. Eh da questo momento in poi avete creato il vostro il vostro wiki su cui appunto dovrete andare poi a a eh lavorare sul sui settings prima di eh cioè prima contemporaneamente la sua al suo popolamento diciamo al suo alla sua crescita eh dovete andare a a a settare diciamo delle delle opzioni eh quello su cui eh lavoreremo oggi è questo eh vi metto anche il link in chat se riesco a farlo così potete vedere eh potrete vederlo mentre eh mentre ci lavoriamo insomma ehm la la prima cosa appunto da fare eh è mh insomma lavorare su questi settaggi eh una cosa insomma che vi consiglio di fare anche per un discorso di ehm facile riconoscibilità diciamo del vostro wiki è eh lavorare eh è inserire un logo inserire un logo è estremamente semplice ehm andate su set logo scegliete dal vostro eh dal vostro hard disk eh il eh un'immagine e la caricate ovviamente eh assicuratevi eh vedete io ho caricato un il logo del del gigumab che avevo precedentemente scaricato di da eh da commons posso anche rifarlo così vi faccio vedere materialmente eh assicuratevi sicuramente di eh fare clic su set logo eh tutte queste tutte queste questi settaggi vanno confermati cioè non basta semplicemente caricare un file o spostare un flag diciamo dovete assolutamente confermare altrimenti non non si prende queste modifiche a volte può metterci un po' di tempo per perché eh questa modifica venga recepita dal vostro ehm dal vostro riesce questa finestra vedete credo doveste vederla in sovraimpressione ehm ci mette qualche tempo per per ehm recepire queste modifiche questo è abbastanza normale se ci pensate perché eh stiamo parlando appunto di una piattaforma che è ancora in beta quindi ha eh tutta una serie di ehm di aspetti che vanno ancora curati per per andare completamente in produzione per questo ci vorrà ancora un po' di un po' di tempo però vi posso garantire che già ha un grandissimo potenziale eh un'altra cosa che potete fare immediatamente ehm è personalizzare la skin del del ehm vostro del vostro wiki cosa che eh in realtà potete fare anche eh una volta che siete gli amministratori anche dalle vostre preferenze locali ehm se ci fate caso quello che vedete come set skin qui nelle eh nei setting iniziali del wiki e in preferenze ehm aspetto è grosso modo la stessa cosa ovviamente se cambiate eh se cambiate qui potete fare un'anteprima ehm mentre in nei settings no però insomma mh come avete visto diciamo è sempre a vostra a vostra disposizione quel pannello quindi diventa facile poi eh effettuare delle delle modifiche quando quando lo desiderate ehm dopo ehm dopo aver aggiunto appunto aver scelto l'aspetto del vostro wiki e aver aggiunto un logo una cosa importantissima a mio avviso è eh decidere eh per il vostro progetto le opzioni di registrazione cioè se volete lasciare che eh chiunque arrivi su questo su questo wiki si possa registrare e contribuire eh o ehm se volete mantenerlo diciamo un un minimo più riservato quantomeno assicurarvi che eh chi chiede di iscriversi eh sia un umano perché anche questo poi può essere diciamo il rischio nel momento in cui lasciate ehm lasciate libera insomma la la possibilità di iscrizione potrebbe arrivarvi molto spam eh per cui io personalmente se mh diciamo è un progetto che eh imitate ad un gruppo ristretto di persone eh vi consiglierei di eh andare su questa opzione e ehm e consigliare appunto di mantenere l'iscrizione come su richiesta anche qui dovete fare set options ora non lo faccio perché se qualcuno di voi vuole iscriversi è il benvenuto ovviamente in questo in questa eh occasione ci sono altre opzioni sono molto queste sono molto importanti nel all'inizio vi anche su questo vi consiglio di eh manipolarle poco nel senso che queste opzioni che riguardano eh la lunghezza eh dei caratteri no ehm di quello che che inserite diciamo nel wiki ehm sono sono si basano sulle stesse opzioni che ci sono per Wikidata ora non eh questa è una cosa che potete sicuramente analizzare in seguito nel momento in cui vi rendete conto che per esempio per una descrizione non vi bastano i caratteri di default potete andare a ehm a eh diciamo modificare le opzioni di questa di questo box mettendo fino a due mila e cinquecento caratteri ovviamente rendete diciamo pensate in prospettiva per cui se eh poi per rendere conto che sono troppi e che in qualche modo appesantiscono il vostro wiki ehm di non andare a tagliare troppo altrimenti poi le vostre le vostre lunghissime label le vostre lunghissime descrizioni eh vengono tagliate quindi quindi questa è una cosa che da da diciamo considerare che si può considerare anche in un secondo momento eh una volta fatti questi ehm setting iniziali ehm ah vi faccio vedere una cosa riguardo eh riguardo il il diciamo ehm la scelta del dell'account su richiesta eh il discorso è che quando mettete eh diciamo questa opzione cioè quella del dell'account eh su richiesta dovete poi andare materialmente a confermare ehm dovete andare ah sì ovviamente questa è un'opzione che si attiva eh che si attiva nel momento in cui nel momento in cui ehm mh settate l'opzione su richiesta vediamo se riusciamo a vederla esattamente questa è la pagina dove vi arriveranno cioè vi arriverà una mail sulla mail con cui vi siete registrati e questa è la pagina dove eh avrete eh diciamo il riepilogo delle richieste eh ovviamente su richieste aperte in questo momento non ne ho perché appunto fino a un secondo fa il wiki era eh diciamo aperto alle all'iscrizione libere avrete l'elenco delle delle richieste e potete andare a a confermarle o eh rifiutarle quando le confermerete all'utente arriverà una password temporanea che poi potrà cambiare nel momento in cui fa il primo accesso al al wiki ora questo lo chiudo un attimo altrimenti poi abbiamo problemi se qualcuno vuole iscriversi liberamente allora eh un'altra cosa insomma che anche eh diciamo di come dire eh consigliabile è per far riconoscere diciamo il vostro wiki per per in qualche modo presentarlo e fare un home page mh e diciamo l'home page e la pagina utente a mio avviso devono essere delle cose che in qualche modo eh si fanno abbastanza velocemente mh potete mettere una frase molto semplice eh così come nel nella pagina utente eh eh diciamo scrivere di voi personalmente appunto se se avete intenzione di di far conoscere ehm il progetto e quello che fate per questo progetto fuori insomma nel su chi su chi ci arriva su questo wiki ehm come potete tranquillamente diciamo eh utilizzare ehm un diciamo un wiki testo semplice oppure usare un po' di HTML per fare qualche box qualche tasto adesso facciamo eh un po' di prove vado a recuperarmi un attimo il wiki testo allora è molto semplice creare una pagina da questo tasto crea ovviamente dovete essere loggati basta andare a vedere un un diciamo un anteprima per vedere eh quello che esce fuori ovviamente eh dovete insomma come potete capire questi due link sono in rosso sia perché per adesso non c'è nessun item di creato per per il wiki sia perché lo scrivi all'admin se vedete anche se date un occhiata anche al al wiki testo qui sotto in realtà punta alla pagina discussione del dell'utente che come vedete è rossa quindi non è creata insomma quindi se se ehm in coda a questo a questa presentazione ci resta un po' di tempo facciamo anche questo in modo da vedere un po' di interazione sul sul wiki se non vi piace insomma volete fare una roba un po' più colorata potete tranquillamente andare a prendere ehm insomma un po' di HTML se se siete esperti di questo oppure potete tranquillamente copiarlo da un altro eh da un altro eh wiki spero di aver copiato la parte corretta e mh come ho fatto per ehm prima vediamo se esce qualcosa ok eh quindi andare insomma a colorare un po' il vostro wiki eh che sicuramente è una un'opzione che lo rende mh più eh a trente insomma e quindi eh vado a salvare la la pagina e avremo la nostra la nostra home page ovviamente tutti gli utenti possono ehm possono effettuare delle eh modifiche fin quando come vedremo dopo eh gli amministratori non decidono che alcune pagine all'interno del wiki sono protette quindi sono modificabili solo dagli amministratori come in tutti i progetti wikimedia la cortesia eh diciamo è è sempre di casa per cui fondamentalmente quando fai la tua prima modifica su un wiki eh vieni ringraziato sostanzialmente diciamo automaticamente ehm per quanto riguarda questa parte insomma non so se vi è chiaro penso abbastanza è abbastanza semplice se ci sono ehm se ci sono domande interrompetevi in qualsiasi momento ehm se c'è qualcosa se vado troppo veloce delle cose interrompetemi quando quando lo credete ok ehm ovviamente è a volte è visto che si tratta di una roba che che create da zero mh diciamo i lo staff di Wikibase Cloud ha pensato bene di far dare un'occhiata eh agli altri wiki anche questa è un'opzione che c'è da da poche settimane per cui a partire dal dal home page di eh Wikibase Cloud potete cliccare su questo discover other wiki basis e vi dà una lista piuttosto eh per il momento ce ne sono trecentodieci con almeno ehm che non diciamo non non vuoti ma eh ce n'è qualcuno in più credo sì quattrocentottantadue quindi vi fa questo vi fa capire che non era il nostro non era l'unico caso insomma ce ne sono tanti che appunto vengono creati e mh poi le persone magari si rendono conto anche che poi per per come succede per mettere su qualsiasi database devi un attimo farti un'idea di quello che di come lo vuoi modellare quindi eh prima di creare degli item appunto conviene creare delle proprietà che in qualche modo rappresentino dei delle dichiarazioni eh per quegli item insomma è una cosa del tutto normale in più c'è eh la questione che eh siete abbastanza liberi nel creare dei wiki di test e poi cancellarli oppure crearli dimenticarvene e riprovare a lavorarci quando avete le idee più chiare ehm diciamo che ce ne sono veramente tantissimi io qualcuno insomma me l'ero me l'ero appuntato magari facciamo un velocissimo giro uno molto importante è questo Wikibase World in realtà Wikibase World non è altro che un registro di tutte le istanze ehm ehm di Wikibase sia eh quelle che vengono ospitate su Wikibase Cloud sia i progetti Wikimedia eh che adottano quella tecnologia sia ehm delle istanze totalmente autonome delle installazioni Wikibase totalmente autonome in generale la cosa eh il vincolo diciamo per ehm eh per eh come si dice per creare un un item questo funziona appunto eh ehm è proprio uguale a Wikidata insomma è uguale a quelli che saranno i nostri i nostri wiki con Wikibase ehm l'unico vincolo su Wikibase World è eh che questi wiki siano progettati per rimanere online quindi se create eh un item registrate eh quale registrazione libere e create un item dentro ehm dentro Wikibase World ehm accertatevi che ehm quell'item si riferisca ad un ad un Wikibase che è attualmente online e mh che si è progettato per rimanerci insomma. Ehm un altro un altro diciamo che a me personalmente piace molto insomma è e perché rappresenta esattamente il motivo per cui eh esiste Wikibase Cloud e e ci viene data questa possibilità è questo Bian Notability che è un progetto di eh insomma su su delle figure femminili dell'archeologia del del patrimonio culturale delle storiche che non hanno diciamo grandissima visibilità se non eh sia sia in termini di reperimento di fonti online eh sia appunto spesso anche nelle nelle enciclopedie eh come Wikipedia dove eh non non vengono considerate avere requisiti eh diciamo di enciclopedicità affinché venga pubblicato diciamo un un una voce enciclopedia su di loro e eh in questa in questo database invece eh appunto in questo progetto ehm eh insomma lavora proprio su queste su queste figure quindi lo trovo sinceramente molto interessante come vedete utilizza una skin diversa da quella che abbiamo utilizzato per il nostro per il nostro wiki eh quindi vi faccio vedere un altro eh questo è eh anche questo secondo me molto interessante perché è un è un wikibase che lavora principalmente sui dati lessicografici eh dedicandosi diciamo a eh lo vedete qui eh trasferire ehm eh dati lessicali di kurdi da questa antologia a wikibase e capire se è possibile sostanzialmente poi trasferirli su wiki data. Eh ce ne sono alcuni estremamente utili ehm ad esempio questo io lo sto usando ogni tanto nel mio lavoro che è un è un un wikibase dove vengono eh diciamo creati degli item sulle eh abbregazioni delle delle riviste scientifiche eh di ogni eh di ogni eh settore insomma eh secondo appunto degli standard per cui eh personalmente insomma lo trovo estremamente utile. Ce ne sono tantissimi vi invito a a eh dare un' occhiata se riesco a trovare di nuovo la pagina discover eh insomma ce ne sono alcuni anche noti insomma c'è il progetto Open Anacolit che è curato dal nostro eh Stefano Bargioni eh c'è appunto metà degli intelligenti che è quello che ha presentato eh Giovanni Bergamin ce ne sono appunto trecento su cui su cui lavorare come vedrete molti di questi sono delle istanze di test che servono poi a modellare del del database un po' più eh strutturati. Ehm una insomma una cosa importante da fare ovviamente anche questa potete pensarci un attimo però è questo è un vincolo ed è questo sostanzialmente cioè definire termini d'uso e definire quella che si chiama impronta cioè chi è responsabile di cosa e come si possono utilizzare i dati e tutto quello che ehm create nel vostro ehm nel vostro Wikibase. Questa cosa è estremamente importante perché eh potete decidere eh di applicare ad esempio delle licenze eh più restrittive rispetto allo c c zero uno punto zero eh che è quella sicuramente più diffusa su questi progetti eh e visto che eh è Wikimedia Deutschland sostanzialmente che ospita eh questa piattaforma e i wiki che vengono creati attraverso questa piattaforma siete obbligati a creare quella che si chiama impronta. Da questo link credo riuscite a ehm dovrebbe essere da queste parti eh termini d'uso eccolo qua eh infatti ve lo dice per è diciamo un obbligo eh che ovviamente potete prendervi un attimo di tempo per decidere cioè specialmente se lavorate in gruppo eh alla creazione wiki potete prendervi un attimo di tempo per capire chi è responsabile di cosa però questa cosa va assolutamente indicata lo faremo anche noi con con il wikibase che abbiamo preparato oggi ehm non so se ci sono domande Sì Claudio se fosse possibile mi puoi ripetere un attimo il core di wikibase non ho capito Tonia scusami ti devo ripetere infatti il core di wikibase eh non ti perdo mi stica pur di stand quello sul Kurdistan ah sì 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 scusami allora te lo metto in chat se trovo la chat eccolo qua eccolo qua ok se non ci sono domande io eh partirei con la creazione di qualche eh elemento e proprietà allora io avrei una domanda che è solo una curiosità in realtà cioè è possibile per te come amministratore di questo eh di questa istanza vedere quali sono gli utenti attivi chi si è iscritto che non si è iscritto e dove si va a vedere sì allora queste ehm tutte queste opzioni ehm quello che chiedeva Carlo lo vedete da le vedete da pagine speciali in pagine speciali che è il punto da dove siamo passati prima se vi ricordate anche per ehm eh diciamo creare delle utenze quando c'è il flag su eh la richiesta di creazione dell'utenza ehm io posso vedere ad esempio chi sono gli utenti tutti gli utenti questi sono quelli che si sono per ora eh registrati ed è eh per il momento sono io eh in quanto creatore del wiki l'amministratore eh posso vedere eh chi sono quegli attivi in questo caso è stata fatta una sola modifica diciamo sul wiki quindi per il momento sono solo io quando ne saranno fatte altre ovviamente ci sarà la lista di quelli che hanno creato ehm cioè quelli che hanno fatto delle modifiche eh posso eh questo in realtà diciamo ve lo volevo far vedere in un secondo momento però secondo me può essere utile anche vederlo ora eh posso cambiare i diritti dell'utente cioè posso decidere che rispetto a quegli utenti che ho visto prima cioè questi decidere che c'è qualcuno eh a cui voglio dare la possibilità di eh di essere amministratore ad esempio ehm decido che Alex Moi può essere amministratore posso anche decidere che è amministratore per un giorno per un mese eccetera può essere burocrate che è una funzione speciale diciamo ha più senso probabilmente quando il wiki è molto ehm molto sviluppato diciamo eh la funzione burocrate potete leggere su Wikipedia che cosa significa è una funzione tecnica eh assomiglia a quella dell'amministratore ma ehm fa delle cose specifiche eh come appunto per esempio gli burocrati fino a un po' di tempo fa adesso è cambiata la polisi internazionale di progetti Wikimedia si occupavano eh dei cambi di eh username del nome utente eh all'interno dei progetti Wikimedia eh io posso decidere un giorno che il mio nome utente non mi rappresenta più non mi piace più è una roba vecchia voglio essere chiamato come mi chiamo con il mio nome e cognome i burocrati erano quelli che lo facevano fino a un po' di tempo fa adesso li fanno gli steward di dei progetti internazionali eh un'altra un'altra cosa che posso fare ehm specialmente questo è utile nel momento in cui nel momento in cui c'è una creazione di utenze libera e non su richiesta ehm eh cioè mettere un flag su email confirmed questo è molto importante perché eh l'utente con email confirmed ehm e amministratore diventa eh un utente autoconvalidato cioè nel senso sono quegli utenti che possono fare non hanno vincoli diciamo sul tipo di modifiche che possono fare quando andremo a vedere il tool quick statement in particolare ehm vedremo che gli utenti che non sono utenti autoconvalidati fino a un certo numero di modifiche le devono fare manualmente non le possono fare con tool come quick statement che serve a modifiche massive vediamo se mi ok dovrebbe avermi salvato eh la modifica e ora se faccio un refresh Alex poi dovrebbe essere vedete appartenere a anche a questi altri gruppi diciamo quindi avere diritti differenti dall'utente che ehm dal normale dalla normale utenza diciamo che serve solo alle a specifiche modifiche ehm quindi Alessandra Moi Alex Moi eh così come me potrà fare una serie di operazioni tipo spostare delle pagine, cancellare delle pagine ehm ehm diciamo bloccare degli utenti ad esempio non so se ho risposto alla tua domanda Carlo perfettamente grazie allora ehm tutte queste cose appunto lo spostamento la che la diciamo la la modifica scusatemi il blocco la 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 protezione di alcune pagine lo vedremo poi in coda perché appunto sono funzioni di amministratore quindi appunto dovete fare qualche salto diciamo da pagina a pagina che non sempre sono particolarmente ehm cioè come dire anche se collaborate ai ai progetti wikimedia non sono pagine che vedete molto spesso quindi eh ve le faccio vedere in coda perché appunto sono funzioni specifiche di non tanto lo spostamento quanto la per esempio la eh la protezione della pagina sono funzioni specifiche degli amministratori ora io direi di cominciare a creare eh qualche proprietà e qualche item se vedete nel la pagina di lavoro io eh vi ho messo insomma prima la creazione di proprietà questo è abbastanza naturale perché ovviamente se non avete le proprietà eh che vi consentono di fare delle dichiarazioni rispetto ad un item che create l'unica cosa che potete creare di un item è la sua label diciamo come si chiama e una descrizione testuale e basta eh ovviamente la creazione di proprietà eh vi responsabilizza un po' rispetto all'uso del del wiki mh è chiaro che è un vostro progetto quindi siete liberi di ehm crearle e e delinearle come meglio credete però ehm questo comporta che in qualche modo eh ve lo progettate il vostro wiki come qualsiasi database mh immagino che tutti noi insomma ehm almeno qualche volta nella vita abbiamo avuto a che fare con con sistemi che consentivano di creare database di tipo relazionale ad esempio e e sappiamo bene che nel momento in cui andiamo a creare i campi ehm in qualche modo vincoliamo il nostro database quindi lo progettiamo per fare delle cose quindi eh insomma direi che è il caso di cominciare a creare delle proprietà eh per creare le proprietà eh appunto lo staff di WP Base Cloud ha pensato bene di mettere tutti i tastini nel modo più invisibile possibile ehm quando creo una proprietà clicco qui inizio la prima cosa è scelgo la lingua della label che poi posso andare a ehm posso posso diciamo eh creare le label tranquillamente in altre eh in altre lingue eh la prima eh la prima proprietà insomma che penso sia dire creare è eh quella che dice di l'item che sto creando a che dominio appartiene ok se per esempio creo un item su Claudio Claudio è un umano quindi dovrò creare la proprietà eh che mi consente di dire Claudio è un umano dovrò creare umano e poi creerò audio ehm vi tralascio diciamo in questo caso descrizioni alias la cosa che dovete assolutamente eh fare in questo caso però è scegliere il tipo di dato eh questi sono è un elenco di tutti i tipi di dati che vengono gestiti a Wikibase ce ne sono di diversi insomma che sono eh appunto eh stringhe testuali e letteral eh sono ad esempio dei dati geografici sono elementi quindi elementi item diciamo creati all'interno del database e identificativi esterni e lo vedremo tra poco sono del eh degli url quindi nel momento in cui andate a creare una proprietà dovete definire anche che tipo di di ehm di dati gestisce quella proprietà in questo caso istanza di mi serve a dire a quale dominio appartiene l'item che voglio costruire ehm e tendenzialmente scelgo eh così come è in Wikidata che sia un altro elemento diciamo che rappresenti ehm che rappresenti questa dichiarazione quindi vado su creare e ho creato la mia eh la mia prima proprietà eh possiamo se volete facciamo subito un un esempio di creazione di un item eh per vedere come in qualche modo riusciamo ad associare eh due item tramite questa proprietà come vi ho detto diciamo ehm basta semplicemente mettere un etichetta diciamo una label per creare un item ora se io vado a creare un nuovo item che in questo caso prendo a ehm ehm prendo come cavia Carlo vedete io ho la mia label ho anche la mia descrizione posso aggiungere una nuova dichiarazione se me lo fa fare in cui vado a specificare che Carlo è un umano questo umano come vedete è un item di questo wiki di questo wiki così come Carlo quindi l'identificatore di questo item è Q1 l'identificatore dell'item che rappresenta Carlo è Q2 ok istanza D è la nostra Q1 la nostra prima proprietà eh qua vi ho fatto una lista appunto delle proprietà che mh mi sono immaginato insomma per questo per questo ehm wiki ehm una che possiamo creare vedete che nella eh descrizione dell'item con label Carlo Bianchini ho detto che è un bibliotecario un professore universitario possiamo immaginarci ehm un una nuova proprietà che si è la occupazione che tipo di dati eh gestisce questa proprietà voglio che gestisca anche questa degli item quindi senza blocco l'ha creata tra un attimo tra un attimo impallato ok eh ovviamente eh poi dovrò creare dei eh degli elementi che possono essere delle dichiarazioni diciamo eh accettabili per questo termine eh c'è per questa proprietà questa proprietà ovviamente io in descrizione dovrò andare a scrivere che cosa vuol dire la proprietà occupazione eh probabilmente scriverò il lavoro che fanno le persone eccetera ehm sto sto tagliando su molte cose altrimenti poi non vi do la possibilità appunto di eh eventualmente fare qualche piccolo eh edit all'interno del wiki però fermatevi in qualsiasi momento ora eh se crea un nuovo item come eh nessuno universitario posso andare a riprendere l'item che rappresenta Carlo e dire che è un professore universitario quindi stiamo arricchendo sostanzialmente il nostro il nostro item che rappresenta Carlo ehm un una eh una proprietà che è molto utile utilizzare eh cioè per creare scusatemi eh eh è da come dire una funzione ehm specifica cioè come dire ed è è una proprietà che ci serve sostanzialmente per dare la possibilità al wiki eh di eh riferirsi a ehm dei siti esterni, database esterni, qualcosa di fuori dal nostro wiki e dire come ce l'arriamo. Lo possiamo fare anche in altri modi, cioè utilizzando come formato di dati per la per la nostra proprietà che creiamo eh un URL. Ma se vogliamo sfruttare diciamo eh la potenzialità di Wikibase come ehm così come per Wikidata di strumento che ci permette di connettere gli elementi che creiamo a eh dei siti esterni, database esterni, possiamo lavorare anche esclusivamente sui loro su specifici eh su siti con i loro identificativi. Vi faccio vedere come 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 farlo velocemente. Allora intanto eh andiamo a dire al al wiki di creare una proprietà che si chiama urli formattazione e che ha la stringa come tipo di dato. Ok. Nel momento in cui vogliamo eh creare una proprietà che si riferisce che ci consenta tramite un identificativo di andare eh altrove rispetto al nostro eh wiki eh creiamo una nuova proprietà come in questo caso visto che questo wiki si occupa di dei video ehm degli incontri che abbiamo fatto come come gruppo. Eh vado a creare una nuova proprietà come identificativo esterno. In questo caso posso aggiungere un una dichiarazione in cui vado a dire qual è la l'url di formattazione. L'url di formattazione di YouTube è sostanzialmente questo. Vi faccio vedere che cosa vuol dire questa roba. Allora fateci caso a come è costruito. C'è un dollaro a uno al termine dopo questo uguale. Intanto vado a salvare. allora se vediamo guarda caso il canale wikidata in italiano no? E apriamo un video. Fateci caso. Elimino questa parte perché è la parte di avanzamento del video. Questa parte finale dopo di uguale è la cosa che identifica specificamente all'interno di questo sito questo video. Quando io vado a creare un url di formattazione qui mi basterà e ho definito questo questa proprietà come identificativo esterno mi basterà per utilizzarla semplicemente usare il suo la parte finale cioè quello che corrisponde a questo dollaro uno no? Che nel nostro caso è questa roba qua. Ok. Lo vedremo materialmente fra un attimo. Posso aggiungere delle altre vi faccio vedere appunto la stesso processo nel momento in cui eh eh voglio creare un'altra proprietà che si riferisce cioè che che sia un identificato esterno. Aggiungo una proprietà che è eh eh che riguarda appunto ehm un diciamo gli elementi di Wikidata perché ad esempio voglio connettere l'item ehm che riguarda appunto che descrive Carlo Bianchini al corrispettivo dentro Wikidata. Aggiungo appunto la proprietà url di formattazione. Ah, mi ero copiato qua. Ah, l'orl di formattazione. E ora? Eh, ho fatto un'altra pagina che avevo non perduto questa. Vado a cercare Carlo Bianchini all'interno di Wikidata. Vado a cercarmi Carlo Bianchini all'interno del mio wiki. Mi richiamo la proprietà attraverso ehm quella che mi suggerisce eh lui. Vado a mettere il mio q qualcosa qua dentro. Allora potrebbe volerci e questo ve lo dico perché è una cosa abbastanza comune. Potrebbe volerci per gli identificativi esterni qualche un po' di tempo prima che questa connessione funzioni. Eh fino a ventiquattro ore. Quindi non preoccupatevi se lo vedete diciamo non eh non in blu diciamo non un link questa cosa. Eh potete provare ad esempio a fare un ehm un ehm pulire la cache della specifica pagina e vedere se funziona. Comunque a volte vi richiede un po' di tempo prima che funzioni questo ehm questo identificativo come link. Ovviamente eh questa è questa è una delle cose più importanti diciamo all'interno di di Wikibase eh se non funziona questo non è molto bello da vedere ovviamente. ehm a volte richiede un po' di tempo quindi vi invito a fare un refresh diciamo periodico per vedere se funziona o meno. Probabilmente oggi ovviamente non funzionerà quindi lo vedrete funzionare da domani. Poi magari lo vediamo con gli item che riguardano riguardano i video se se insomma dovessimo essere più fortunati. Una cosa che potrebbe ehm essere ehm essere eh utile affinché questi identificativi esterni funzionino ehm è mappare la corrispondenza di questi identificativi nei settings del del vostro wiki. Vedete c'è questo secondo seconda finestra che features in cui andiamo a dire che per la proprietà ad esempio P1 come abbiamo detto istanza D del nostro wiki corrisponde all'istanza P31 di Wikidata. Questo consente una migliore interoperabilità fra il nostro wiki e Wikidata. Quindi è una cosa che vi consiglio di fare sempre. Eh è molto semplice. In questo caso vado a dire ehm qua che il nostro P1 è uguale a P31 del ehm di wiki data. Wikidata P31 è il nostro istanza D. Vedete. ok. Possiamo creare delle proprietà ehm anche che riguardano i file multimediali su com. Come sapete appunto una delle cose eh molto belle insomma del dei progetti Wikimedia è che sono eh che Wikidata funziona un po' da ehm centralizzazione diciamo di di tutti questi progetti e questa centralizzazione consente una migliore capacità di operare fra di loro. Una delle ehm delle funzioni che sicuramente sono molto interessanti è il fatto di poter richiamare delle mappe, dei dati, cioè delle immagini ehm e altre altre cose dagli altri progetti. Ora ehm in Wikibase Cloud c'è la possibilità di ehm inserire un link alle immagini su commons specificamente attraverso un tipo di dato che andiamo ad assegnare in ehm alla nostra proprietà. Lo facciamo subito ehm sul nostro wiki creiamo la proprietà immagine e andiamo a scegliere file multimediale su commons. Qual è la differenza? La differenza è che eh non ci eh non ci mostrerà l'immagine ehm ve lo faccio vedere subito ma andiamo a riprendere un attimo la termine di Carlo. Ma ad esempio se vogliamo utilizzare la stessa immagine che c'è su ehm su wiki data quello che ci darà vedete non so se ci avete fatto caso vi ha fatto mh insomma c'era un suggerimento di autocompletamento insomma non so se mi farà vedere vedete quello che vi farà vedere è un link all'immagine. Ok quindi adesso da qui posso andare su commons per andare a vedere l'immagine e le sue varie possibilità. Mi dice qualcosa? Ok decima modifica. Questa è diciamo un'infarinatura iniziale su quello che eh potete eh potete fare. Mh mi ero segnato eh una serie di eh di item da creare eh qualcuno l'abbiamo già creato vorrei sperando che funzioni il lavoro degli identificativi esterni eh vedere se funziona per quantomeno per la parte che riguarda eh i nostri video. Allora ovviamente eh non non ho creato tutti quelli quegli item che servono però a definirlo eh correttamente magari posso fare una cosa. Creo sia un item working hour sia l'item riguardo al nostro specifico video. Ok. Vado a creare un nuovo item. Ok. Working hour. Come vi dicevo prima sto un po' andando veloce sulle descrizioni però voi eh specialmente se avete item che hanno c'è dove c'è la possibilità che abbiano eh delle lab delle label simili ehm la descrizione utilizzate la sempre perché il primo punto di disambiguazione nel vostro database. Allora che cos'è questa questo item è stanza di abbiamo detto che viene definita tramite un elemento. Vediamo se mi è appuntato lì di corretto di YouTube. YouTube. Vedi. Vedete la stessa cosa. Ci mette ancora un secondo per per eh creare vediamo se con un purge. niente rimane testuale. Comunque vi invito insomma a dare un'occhiata domani al al wiki e vedere se funziona correttamente il link. Se non funziona correttamente può darsi semplicemente che ci siamo sbagliati in qualcosa però in genere magari ve lo faccio vedere da qualche altro. eh in genere funziona così. Cioè diventa così. Ok? Diventa un link verso l'esterno. Questa appunto riguardo riguarda lo stesso item dentro wiki data. Questo in un servizio eh esterno. Questo è un un item in un piccolo database che ho creato per ehm che riguarda appunto uno scrittore torinese che si ha Giorgio De Maria per raccogliere appunto dei dei delle insomma del sia sia delle opere sue un po' meno conosciute sia dei suoi articoli su sull'unità. Lui collaborava con l'unità ehm in in un unico posto e avere avere la possibilità appunto di ehm andare velocemente diciamo a a queste fonti. Eh quindi quello che troverete è questa roba qua. Cioè la possibilità che questo identificativo esterno vada effettivamente all'esterno non sia solo un una stringa testuale. Ok? Come vedete anche in altri database purtroppo questa situazione si si crea. Questo è il database quelle sulle abbregazioni che ho fatto vedere prima. nonostante appunto un format rule corretto a volte succede che ci metti un po' di tempo per andare per andare verso fuori. Ok. non so se ehm vi chiaro quello quello che sto dicendo perché così possiamo passare a delle funzioni un po' più complicate. Quindi se avete domande diciamo che dovremmo essere ad un'ora più o meno quindi è il momento giusto per fare qualche domanda se ne avete. Claudio a me sembra tutto molto chiaro. In chat non ci sono domande. Se per caso qualcuno vuole mettere in chat una domanda e poi ti interrompo io. Ok. Va bene. Allora andiamo un po' più avanti. Eh avete visto la creazione eh di proprietà? Avete visto la creazione di ehm item. Ehm. Allora ehm chiaramente ve l'ho detto sto andando un po' veloce perché ehm serve anche a farvi vedere più ehm possibilità. Aspetta devo fare un attimo i controlli di zoom davanti. Ehm a farvi vedere più possibilità di quello che potete fare all'interno eh di un wiki base che create. Visto che non si sono appunto generati eh i link verso l'esterno delle nostre proprietà eh magari vi faccio vedere su qualche altro database ehm creato tra tra quelli diciamo che ci sono in quella che si si raggiunge quella pagina discover come come funzionano questi link verso l'esterno. Una casa una cosa che però eh volevo far vedere è che eh all'interno di questi database sono pre installati all'interno di questi wiki sono pre installati alcuni tool che normalmente si utilizzano per wiki data. Ce ne sono due in particolare. Eh c'è un tool che si chiama cradle. Cradle sostanzialmente serve a ve lo faccio vedere magari da un altro da un altro wiki. Serve a creare delle maschere di inserimento. Ok? Dove alcune eh di queste di questi inserimenti sono ehm obbligatori. Cioè io ho creato eh una maschera di inserimento in cui dico no? Che se sto scrivere se sto creando un item riguardo a un umano il valore umano per istanza di deve essere obbligatorio. Ok? Eh come si crea eh come si fa a creare questo modulo? È molto semplice. In realtà bisogna compilare rispetto a quella a quella che vi ho fatto vedere un attimo fa eh bisogna all'interno del vostro progetto creare una pagina che si chiama project due punti quindi nel namespace project cradle dove andiamo andiamo semplicemente a specificare quali sono per ognuna delle schede che creiamo cioè ad esempio questa era quella di capitolo no a parte etichette alias descrizioni che cosa vogliamo andare a inserire eh rispetto a eh eh l'elemento che stiamo creando possiamo decidere delle specifiche proprietà appunto in questo caso ehm vedete mh delle varie proprietà di questo database e ho scelto queste sette per queste sono tutte le proprietà di questo di questo database di questo wikibase queste sono quelle che ho scelto di rappresentare tramite la maschera ok? A parte etichette alias e descrizioni che vengono messe di default. Per alcune appunto che ho detto l'inserimento è ehm indicatore quindi se sto parlando appunto in questo caso di un capitolo di un libro per me è istanza di capitolo per come modellato il wikibase all'interno anche questo non è un wikibase molto raffinato però per farvi capire appunto che eh mettere questo paletto mi mi consente di di scegliere come modellare diciamo l'item eh ho deciso appunto di ho creato tre item che riguardano eh lingue e per lingue invece ho dato la possibilità di scegliere perché perché il database cioè questo wikibase eh raccoglie questo che vi stavo facendo ora è un piccolo progetto che sto portando avanti in fase di test per questo momento raccoglie che cosa ehm dei insomma delle delle dei contributi in eh studi in onore che sono presenti nella mia biblioteca ho pensato di valorizzarli ehm creando questo piccolo eh database eh è in fase dei test perché appunto poi voglio vedere di fare una cosa un po' più raffinata dal punto di vista della modellazione diciamo dei dei dati ehm una margine a caso vediamo cosa prende questo riguarda appunto vedete qua di nuovo le le nostre proprietà che riguardano gli identificativi esterni qua funzionano come identificativi esterni ahimè diciamo in quello di oggi ha deciso che ci vuole un po' di tempo eh in particolare appunto in questo ho scelto di utilizzare come come eh servizi esterni quindi idref eh che appunto è un un servizio eh che raccoglie diciamo dati di autorità ehm delle eh di ambito appunto universitario francese e lo stesso Wikidata quindi se voglio andare a vedere l'item mio Francesco Bernalutti l'ho connesso nel mio eh nel mio eh Wikibase a quello presente su Wikidata tramite questa funzione ehm fra tutti i tool sicuramente tra tanti i tool diciamo che si usano in ambito nell'ambito dei progetti Wikimedia uno dei più potenti è sicuramente Quick Statement. Quick Statement è quel tool che ci consente di eh fare eh una serie di ehm operazioni in maniera massiva eh come come funziona? Al primo diciamo quando lo aprite bisogna fare l'accesso meglio bisogna autorizzare se siete già loggati nel nel Wikibase eh l'interazione massiva con con eh le con appunto con le istanze Wikibase ehm clicco su un nuovo batch e posso fare una serie di operazioni ora eh ad esempio posso creare è chiaro allora la cosa migliore è crearvi a parte eh questo vi rimando ehm forse Carlo se ce l'hai proprio a portata di mano ehm se no aspettate eh noi abbiamo fatto un incontro su Quick Statement specifico per Wikidata ehm lo cerco lo cerco e lo metto in chat. Ok grazie mille ehm la ehm trovate le istruzioni per creare ehm eh diciamo ehm per una buona forma diciamo per utilizzare Quick Statement cioè eh crearvi dei dei fogli di calcolo eh i dati che volete caricare eh e poi utilizzare Quick Statement per farlo. Potete anche eh semplicemente eh allora per tra l'altro da questo aiuto andate alla pagina di documentazione che vi dice la sintassi che si usa per la sintassi che si usa per Quick Statement ehm però conoscendo quella sintassi potete fare eh potete creare dei nuovi elementi ad esempio voglio creare un elemento vediamo se siamo fortunati allora voglio creare un elemento che appunto eh ha è un video registrato su su che è presente su YouTube e che è introduzione generale a Sparkle eh la prima cosa che vado a definire appunto vi dovete un po' leggere la ehm la sintassi che utilizza Quick Statement ehm 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 LIT e DIT significa semplicemente label in italiano e descrizione in italiano. Le virgolette ci servono perché le perché questa parte qua eh insomma sono stringhe quindi non rappresentano delle eh altri elementi noi attraverso Quick Statement possiamo fare un sacco di cose insomma poi se riuscite a dare un'occhiata al video vedrete eh vedete la potenza di questo tool rispetto a Wikidata. Tendenzialmente potete fare le stesse cose. WV awareness. Quando è finito questa parte c'è una domanda. Ok. Uh organizzato da WV app. Ok vi faccio vedere semplicemente questo poi potete andare ah sì facciamo così a giusto un attimo e vediamo la domanda vediamo se riesco a recuperare il nostro il nostro database stranamente ci sono un po' di problemi di aggiornamento vabbè c'è qualcosa che capita questo ve lo ve lo dico già e ci sono vedete questo è tutto quello che ho creato però se ho fatto la ricerca in tutte le proprietà e ancora manca questo aggiornamento cioè ci sono delle cose che non mi appaiono ancora in tutte le proprietà all properties mi dovrebbe mostrare tutto quello che ho creato ma vedete mi mostra solo la prima di queste proprietà è abbastanza normale cioè nel senso che appunto considerate come vi dicevo prima che è una beta quindi potrebbe non funzionare in una maniera così rapida come funziona ad esempio wikidata tenete presente però e ve lo dico che anche in wikidata quando gli amministratori voi sapete che in wikidata le proprietà vengono proposte da qualcuno che appartiene alla comunità da un editor di wikidata che può essere anche un amministratore ma esistono delle specifiche funzioni per crearle cioè non tutti possono creare proprietà all'interno di un database così vasto come wikidata ma lo fanno lo fanno gli amministratori e i creatori di proprietà quindi appunto degli utenti con come dire con funzioni specifiche ora nel nel in quello che sto tentando di fare sto dicendo attraverso quick statement questo è un uso molto limitato diciamo del tool ora se l'ho scritto correttamente vedete sto dicendo crea un item la cui label è introduzione generale a Sparkle la cui descrizione di it è video di un incontro informativo organizzato al gvmab e l'identificativo che vado a mettere esterno che vado a mettere in youtube video id è questo qua ti faccio avvia e ha funzionato quindi adesso avrò nel mio wikibase questo item ok qual era la domanda? te la leggo chiedeva Elena mi chiedevo solo se è pertinente se puoi spiegare qualcosa su come stabilire relazioni tra le proprietà cioè classi, sottoclassi eccetera ad esempio per unità amministrative comune, regione, stato sì allora questo sostanzialmente sì si fa diciamo nella modellazione del database cioè nel momento in cui io creo come ve lo posso far vedere la wikidata perché serve diciamo un minimo per poterlo fare all'interno di questo per esempio se io creo come in wikidata una proprietà che è se ho capito la domanda di Elena ok vediamo se qua riesco a farlo vedere allora intendevi questo Elena? cioè nel senso che quando attraverso attraverso istanza di diciamo dico che una cosa è un per esempio un umano posso dire che esiste una sottoclasse che rappresenta una cioè che quella è una sottoclasse di cioè non ho capito se è questa la domanda scusami Elena cioè se per esempio voglio voglio creare una relazione fra esatto esatto ha confermato che è quella ok ok voleva sapere questo ad esempio molto molto più semplicemente se se voglio creare una relazione fra un luogo geografico più esteso e un luogo geografico meno esteso devo creare due proprietà che in qualche modo le mettano in relazione no cioè se se dico che Salerno è un luogo una unità amministrativa in quale regione si trova devo creare una proprietà che riguarda la regione quindi come dire l'unità più grande insomma non come dire probabilmente ci vuole un attimo di tempo per farlo all'interno del nostro del nostro database di oggi però visto che appunto oggi quello che vi ho fatto vedere sono cose un po' generali e appunto ne ho ancora un bel po' possiamo e questo ce lo siamo appunto un po' concordato all'interno del gruppo per chi è interessato cioè se ci arriva qualche richiesta sul sulla mail list ad esempio o singolarmente a qualcuno di noi fare un incontro successivo su aspetti specifici in cui ad esempio possiamo vedere dettagliatamente questa cosa che ci chiedeva Elena se per voi va bene Elena conferma che è d'accordo sulla seconda puntata ok sì speriamo nella seconda puntata funzionino anche gli identificativi esterni sinceramente che speravo erano un po' di giorni che andavano molto bene ovviamente oggi potevano doveva essere doveva essere tutto un po' più lento però succede così a volte io se per voi va bene andrei avanti ancora per una decina di minuti se siete ancora disponibili a sentirmi benissimo parlare e sappi che anche Alessandra ha chiesto la seconda puntata e la chiedo anche io visto che ci sono ok 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 volentieri diciamo allora un'altra cosa che vi voglio far vedere perché secondo me è una cosa molto carina voi sapete che per esempio all'interno è liquidata quando io vado a mi vado a cercare inserisco delle dichiarazioni queste dichiarazioni in qualche modo si si mettono in ordine questo riguarda anche gli identificativi ok questo è perché all'interno di liquidata così come possiamo fare all'interno del nostro wikibase possiamo creare una pagina che si chiama io ogni tanto ci provo ragazzi no ok che si chiama così sorted properties ve la faccio vedere in un altro sempre nel wikibase di prima perché appunto ci vuole un attimo di di come dire di approfondimento per crearla anche se è una cosa molto semplice semplicemente vado a dire in che ordine voglio che ne vengano presentate le dichiarazioni ok se adesso ma come ho detto c'è qualche problema probabilmente di aggiornamento di funzionamento proprio della piattaforma vedete è una pagina che in realtà già esiste all'interno del del nostro wikibase ad esempio in uno degli elementi che ho creato ti prendo sempre come cavia Carlo scusami voglio mostrare per esempio il link all'immagine subito sotto a istanza di dovrò fare in modo di fare così dire che voglio vedere prima istanza di poi immagine che è p6 e poi occupazione che è p2 per esempio è salvo no scusate scusate ho dimenticato una cosa fondamentale che va espressa attraverso un elenco puntato ok ora in teoria se io vado qui e diciamo abbiamo la fortuna che funziona un po' più velocemente l'aggiornamento di queste pagine cosa che ovviamente oggi non va proviamo a cancellare la cache della pagina e vedete che stavolta l'ha fatto ok mi ha messo immagine l'ultima dichiarazione che avevo fatto adesso è la seconda perché vi ho detto attraverso sort of properties mettili una subito dopo istanza di che è p1 ok questo è un'altra mi avviso diciamo è una funzione importante per come leggiamo l'item questa è una delle cose possiamo e questa è un'altra cosa che è simile a wikidata usare diciamo questi item gli item che creiamo all'interno del nostro database anche esportandoli singolarmente attraverso delle serializzazioni in altri formati ad esempio vi faccio vedere questa volta questo database di cui vi ho parlato prima se voglio che venga espresso in title per usarlo ad esempio all'interno di un progetto che utilizza linkedin data semplicemente devo usare questa sintassi sul per vederlo trasformato in in turtle ok ad esempio voglio farlo qua devo semplicemente andare a chiedere allora come entity data ok così 12 no q 2 vediamo se l'ho azzeccata eccola ok se lo volessi come un rdf scaricabile vedete mi si avvia il download se lo voglio vedere in un altro formato come json questo è quello che mi esce fuori ok ovviamente è una roba poco leggibile ma che nel momento in cui viene interpretata diciamo attraverso il software corretto le macchine corrette è una roba che le macchine possono gestire per all'interno di database sofisticati ultime cose che vi vorrei far vedere è il fatto che che una delle potenzialità più importanti appunto di wikidata è trasferita anche in questi in questi wiki piccoli piccoli medio grandi wiki che creiamo cioè la possibilità di avere un query service che è una cosa stupenda per quanto mi riguarda anche perché come dire risponde alla funzione principale di questo tipo di base di conoscenza cioè quella di essere di essere interrogate affinché i dati possano essere utilizzati in contesti anche differenti da quelli di partenza ovviamente abbiamo poca roba nel nostro nel nostro database di ora ma appunto nel secondo incontro magari possiamo vedere visto che appunto abbiamo qui Carlo spero la prossima volta ci possa essere anche Camillo tutti i colleghi del gruppo persone che hanno anche una dimentichezza maggiore di me come si parla possiamo vedere sicuramente delle robe un po' più complesse io vi faccio vedere semplicemente alcune veloci query ad esempio questa in cui semplicemente è una cosa importante non devo non dovevo dimenticarla allora se avete usato il query service di Wikidata sapete che è un query service un po' semplificato in cui non dobbiamo esprimere i prefissi cioè quelle dichiarazioni diciamo che ci dicono dove stai andando a chiedere cioè qual è l'end point dove stai andando a pescare questi dati in questi Wikibase è necessario però avete la pagina di lavoro lì è molto chiaro quando aprite una di queste query come farlo ok e c'è anche nella documentazione su Wikibase Cloud che avete sempre linkato nella pagina di lavoro qui semplicemente sto andando a chiedere che mi vengano elencati per quel database che ho fatto vedere prima sugli scritti in onore gli umani vediamo se l'info ok le stanze di umano con gli identificativi di Wikidata e i draft lì dove ci sono e quindi anche quelli che non ce li hanno e il conteggio degli statement per ognuno e questa è una semplice visione tabellare con il link all'item diciamo l'uri e l'item la label e i valori che appunto gli ho chiesto ve ne faccio vedere un'altra un po' più no vabbè più o meno uguale a questa stesso discorso questo appunto è il database in cui raccolgo tutta tutta questa letteratura diciamo su e di questo scrittore che si chiama Giorgio De Maria in questo caso gli sono andato a chiedere se non sbaglio le recensioni sì le recensioni dei suoi romanzi ok con appunto se poi andiamo a vedere l'item uno di questi item con il link anche a dove trovo dove trovo questa recensione ok che è una pagina pubblica dell'archivio dell'unità uno si potrebbe chiedere ma posso fare solo queste tabelle no in realtà sempre diciamo in uno di quei di quei database posso usare in realtà quasi quasi tutte le visualizzazioni che uso per Wikidata ad esempio qui ho il conteggio degli statement degli stessi di prima in una diciamo una bar chart insomma ho ancora e ve lo faccio vedere però da un altro di cui non sono responsabile posso usare nel momento in cui vado a inserire delle coordinate geografiche come avete visto si possono creare delle proprietà che riguardano coordinate geografiche dicendo di voler vedere questa query su una mappa posso vedere una mappa che è una roba molto molto interessante in più è questa secondo me è la grande potenzialità perciò e anche su questo è importante definire i diritti d'uso dei dati che andate a creare su sul vostro Wikibase posso fare una query federata in questo caso è una query federata con Wikidata cioè mi vado a prendere delle informazioni nel risultato della mia query mi vado a prendere delle informazioni che non sono nel mio database ma che sono ottenibili su Wikidata ora vediamo se qua ok allora nel mio nel mio database per questi item appunto prendiamo il primo se vedete non esiste un dato temporale che riguarda la nascita e la morte né esiste un identificativo che riguarda BF o diciamo giocando in casa cercatelo ma posso farlo facilmente appunto andando a definire un prefisso in cui vado a dire dove vado a prendere queste cose richiamare attraverso questo bind la l'uridi Wikidata e prendere una serie di informazioni avrei potuto prendere la data di nascita completa la data di morte completa però poi attraverso appunto delle piccole manipolazioni sono andato a cercare proprio quello che mi serviva cioè l'anno di nascita e di morte compresi gli identificativi se guardiamo l'item questo item non ha queste informazioni quindi non ho fatto altro che federare la mia richiesta con un altro database esterno attraverso il query service stavolta del mio Wikibase e non quello che gli ho utilizzato in fondo alla pagina trovate dei link utili insomma che vi consiglio di andare a dare un'occhiata uno particolarmente utile questa chat di Telegram sul sul gruppo che lavora su Wikibase Cloud perché di lì passano tante informazioni cioè probabilmente stasera oltre a me ci sarà qualcun altro che dirà ma perché stasera oggi pomeriggio le proprietà che riguardano gli identificativi esterni non andavano e cercheremo una risposta tante delle risposte sono nel sistema di ticketing pubblico che utilizzano i progetti Wikimedia dove ci sono tutta una serie appunto di bug report di nuove features insomma che sono chieste alla comunità eccetera dove potete osservare un attimo la situazione vi faccio vedere un'ultima cosa perché credo che è utile per chi vuole fare un progetto con diciamo più utenti mi dispiace appunto che sono andato un po' lungo quindi non siamo riusciti a fare appunto delle modifiche però se voi volete trattenere per me va bene se no facciamo sicuramente una seconda puntata è la funzione in particolare di proteggere una pagina perché perché io posso proprio per evitare quando ho un numero di utenti un po' più ampio che alcune parti in disaccordo diciamo con gli altri vengano modificate quindi io posso semplicemente dire che la home page del mio gvmab trattino edu venga modificata solo dagli amministratori con scadenza infinita oppure quella che decido per esempio che per una settimana è così questo sapete dove viene utilizzato molto per esempio come sicuramente sapete a volte capita che su progetti molto grandi come wikipedia ci siano delle vandalizzazioni di una specifica pagina immagino non lo voglio neanche sapere proprio per la durezza del momento quanto sia in questo momento vandalizzata la pagina del conflitto israelo-palestinese no? immagino ad un certo punto quando succedono questi edit questi edit war o comunque queste queste vandalizzazioni gli amministratori intervengono perché fanno in modo che le pagine siano protette l'informazione rimanga quanto più accettabile possibile fino a quando insomma poi si perde vanno poi a fare altre cose ad esempio a bloccare singoli vandali o avvisare utenti che hanno fatto delle modifiche senza fonti adeguate e poi sbloccano di nuovo esistono anche altre pagine che sono protette all'infinito all'interno per esempio di wikipedia così come di wikinata sono quelle che vedete con il lucchetto in alto a destra sono quelle pagine diciamo la cui compilazione è riservata un po' a amministratori burocrati diciamo a quelli che hanno delle funzioni tecniche all'interno di wiki ok posso appunto dire che è consentita solo agli amministratori in questo momento gli amministratori siamo siamo io vedete no high traffic page oppure vandalismo eccessivo questi sono presi da wikipedia sostanzialmente sono sono una motivazione sono presi da là e confermo ora se io volessi andare a fare una modifica vediamo se l'ha presa questa cosa vedete mi esce questo banner esce anche a me che sono amministratore di questo wiki però esce questo banner quindi io potrò modificarlo ad esempio un altro degli utenti che abbiamo attualmente l'ho detto agli utenti si arriva tramite pagine speciali elenco degli utenti un altro degli utenti che non è o me o Alex Moy in questo momento può fare non può non può modificare la pagina principale allo stesso modo posso cambiare la protezione posso spostare beh ovviamente non mi conviene spostarla alla main page spostare significa prendere ad esempio una bozza e spostarla in un altro namespace di questo wiki semplicemente mi sono scocciato del nome che ho dato alla pagina posso creare una pagina nel mio diciamo sotto nel mio namespace utente Claudio Forziati slash appunti domani lo voglio chiamare tools allora devo effettuare uno spostamento questo magari appunto lo vediamo poi al prossimo al prossimo incontro è un'operazione molto semplice in effetti Claudio stanno un po' andando via tutti quindi forse è meglio se ci fermiamo e riprendiamo la prossima volta allora io arresterei anche la registrazione a Grazie a tutti.